Torna la consueta rubrica del personaggio della settimana dopo Catania Provercelli per la nostra redazione e Daniele Sciaudone. Sentiamo Sergio Barbagallo. Un venerdì sera speciale per il Catania e i suoi tifosi. La vittoria schiacciante contro la Provercelli ha fatto tornare il sorriso ai rossazzurri e diciamolo pure un entusiasmo che da mesi non si vedeva al massimino. Non ha deluso le attese Daniele Sciaudone. Il centrocampista sbarcato a Catania pochi giorni fa nella parentesi di mercato di riparazione ha incantato la platea del massimino, tanto da meritarsi la vetrina del personaggio della settimana per gli etnei. Un acquisto importante che ha dato peso e profondità ad un reparto apparso con lacune evidenti durante la stagione. Nonostante la doppietta di Calaio, il gol capolavoro di Rosina e Sciaudone a cambiare la partita, si procura il calcio di rigore e la punizione che varranno il 2 e 3 a 0. Centrocampista completo, bravo nelle due fasi, sempre pronto ad inserirsi con incursioni centrali o fungendo ad avere propria ala sull'out di destra. Dotato anche di piedi buoni, l'ex Bari rappresenta l'acquisto perfetto e che i piedi dell'Ettra mancava. Se in più aggiungi l'umiltà, la grinta e la serietà del personaggio in questione, non si poteva chiedere di meglio. Come rinforzo alla di Cosentino, che è riuscito a strapparlo al Bari, Bari che non ha ancora digerito la cessione di Schau. Discorso diverso per i catanesi, che invece potranno godersi il 44 rossazzurro.